E' un anno da dimenticare per l'aspetto umano ed economico. Questi dati sono più un bollettino di guerra e niente sarà più come prima. Con queste parole il presidente della CNA di Pesero Urbino, Alberto Barilari, ha aperto la conferenza stampa, ospitata dal cantiere navale Rossini e dedicata sia al bilancio 2020 che alle prospettive economiche. Manifattura, turismo, servizi e cultura sono in difficoltà. Per la prima volta, dopo anni, anche l'export registra un meno 13,2% a causa del blocco dei mercati internazionali e degli spostamenti vietati. Si salvano invece l'edilizia e i trasporti, un quadro che è stato definito sconfortante. Un salto indietro nel passato, ci stiamo tutti leccando un po' le ferite. L'unica consolazione è che questa è una situazione generalizzata a livello internazionale, quindi non dobbiamo quantomeno buttarci nessuna colpa addosso. È una provincia sensibile a questi scossoni dell'economia e, al contrario di altro, tende ad avere dei numeri peggiori. In base ai dati elaborati dal Centro Studi regionale della CNA, nell'ultimo decennio c'è stata una diminuzione sistematica delle imprese nella nostra provincia che si attesta ad un preoccupante meno 9,4%, ben superiore alla media delle marche. Le nuove imprese calano del 23,7% rispetto al 2019 e si registra un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni di circa 200 unità. Tanti non ce l'hanno fatta, ma chi ce l'ha fatta ha voluto ripartire con forza e determinazione. A noi serve questo, serve. Tutti, tutti quanti, cittadini imprenditori, abbiamo voglia di rinascere, di ritornare a viaggiare, di ritornare a fare il nostro lavoro, di ritornare a incontrare gli amici. Abbiamo voglia di rivivere, insomma, di vivere. Per il 2021 è difficile fare previsioni, ha detto il Presidente. Speriamo che sia un anno di rinascita e ricrescita, ma servirà a una situazione sanitaria stabile e sotto controllo. Se la campagna vaccinale proseguirà, sarà possibile tornare lentamente ad una quasi normalità. Ringrazio per tutto quello che è stato fatto, forse era difficile fare di più. Spessiamo una lancia per il futuro, io credo che sarà un futuro migliore di questo, quantomeno. Ecco, poi, come dico, non voglio fare previsioni perché appena si fanno si sbagliano. Però, ecco, il sentimento è un sentimento, la speranza c'è. Io dico che è anche basata su cose tangibili perché non potrebbe essere diversamente.